Adesso ascoltiamo, credo con grande piacere di tutti, la professoressa Daniela Lucangeli che oltre ad essere professore ordinario di scienze cognitive dello sviluppo dell'Università di Padova è presidente della sezione Developmental Science dell'Accademia Mondiale delle Scienze per le Learning Disabilities e lei ci parlerà dei processi di maturazione per cui darà un grande contributo delle neuroscienze a ciò che finora abbiamo sentito sull'aspetto psicologico, neuropsicologico e comportamentale. Buon pomeriggio, buona giornata. Volevo iniziare con un numero. Lo leggete lì, c'è scritto che in questa giornata mondiale del bambino, sì sì, in quello sono in grado, in questa giornata mondiale del bambino a novembre del 2014 qualcuno ha preso così il gusto di contare quante volte i bambini ridono e quante volte ridono in media gli adulti e gli adulti, va bene, i bambini di sei anni, quindi quando sorridere già pienamente consapevole, 300 volte in media al giorno, negli adulti quando è pienamente consapevole, sono ben esperti, ridono 15 volte, anzi sorridono 15 volte al giorno. Quindi siccome io ho bisogno della vostra sintonizzazione, lo dico mentre mi batte il cuore e ho i circuiti emozionali attivi, oltre che quelli mentali, oltre che quelli psicofisici, per sintonizzarmi con voi questo sorriso è indispensabile, altrimenti io tacerò, perché per me la comunicazione affettiva o è affettiva o sono parole, quindi siccome siamo qui in questo contesto di persone che stanno costruendo insieme questo percorso, nelle differenze, vi spiego le mie di differenze. Intanto Federico Bianchi di Castelbianco, grazie di avermi aperto il tuo mondo. Poi adesso vi dovrete sopportare il mio linguaggio, il mio linguaggio funziona in maniera un po' differente da un punto di vista proprio di struttura a cui si riferisce, perché ha un impianto che è prevalentemente di letture probabilmente diverse del fenomeno della fatica, della crescita, del disturbo eventuale. Quindi io per farmi un linguaggio omogeneo mi sono scritte le parole che ho ascoltato questo pomeriggio e di cui sono molto grata, seguono il mio flusso di pensiero che ho raccolto dal vostro. Diagnosi, disturbo, attaccamento, sintonizzazione, psicopatologia, vulnerabilità, circuiti neurofunzionali, la mente, i no, precocità, dialogo con il tempo, se sai come si fa per piacere ricordati anche di noi, regno dei cieli, regno dei cieli abbiamo citato, bilanci di salute, consulente d'organo, ruoli e competenze, il sospetto del problema, la formazione, la bufala del secolo, il miracolo dell'acqua potabile, buona fede e mala fede. Abbiamo toccato l'universo, quindi adesso io come vi parlo di sviluppo e maturazione nel mio linguaggio, avendo avuto tutto questo proprio accompagnamento importante di letture che sono comprensioni del fenomeno, dicevamo fin dalla prima presentazione del pomeriggio. Allora io devo fare come mi viene spontaneamente, cosa sappiamo noi dello sviluppo, come faccio a sintetizzarvi cos'è lo sviluppo, perché bisogna proprio condividere i significanti di questa parola, non ce n'è uno solo di significato, ma significanti di questa parola, perché è una parola ad alta complessità. Quindi io lo faccio così come mi viene, pensando a quando lo spiego ai miei studenti a lezione e a loro chiedo di fare due minuti di un esercizio, che è un esercizio di memoria autobiografica che adesso vi propongo, memoria autobiografica, vi chiedo di ricordare della vostra vita, quindi è proprio un esercizio esercizio. E quindi vi chiedo di ricordare stamattina voi allo specchio, come vi siete visti, sentiti, ecco, cioè recuperati il ricordo, non l'interpretazione, ecco, perché sono funzioni differenti, quindi come vi siete sentiti, date uno sguardo a questo momento della vostra vita, come va negli affetti, come va nel lavoro, come va nelle strutture portanti della famiglia o delle figure significative, come va nelle vostre paure, come va nelle vostre emozioni positive di gioia e felicità, quindi date questo sguardo, lo tenete lì meraviglioso, magari con un'emozione positiva che lo tenga in bella vista, e tornate indietro nel tempo, tornate per esempio ai vent'anni, e date uno sguardo alla vostra memoria di voi, quindi come eravate vestiti, che faccia avevate, con chi andavate a scuola, quali erano i vostri amici, come era la vostra qualità della vita, che pensieri facevate a vent'anni, che idea di voi di il futuro avevate, che paure avevate, che gioia avevate, devo correre, ma fatto bene, questo esercizio è bello, si ricostruisce il sé, e quindi torniamo indietro nel tempo, che faccia abbiamo avuto a dieci anni, dodici anni, scuola media, come ci vestivamo, che scarpe avevamo, che cartella avevamo, che amici avevamo, che giocattoli avevamo, che giochi facevamo, e mamma e papà, e gli amori, e torniamo indietro, recuperiamo i nostri sei anni, l'ingresso a scuola magari, il fiocco, il grembiure, la cartella, la merendina, la ricreazione, l'aula, la maestra, le maestre, i maestri, i compiti per casa, recuperate ricordi, come vi sentivate, che amici avevate, che paure avevate, quando si spegneva la luce la sera, che pensieri venivano, che giocattoli amavamo, e poi se riuscite recuperate il primissimo ricordo della vostra vita, così, quello che vi viene per primo. Adesso la domanda che vi devo fare sembra ridicola, eppure è una delle domande più discusse all'interno delle commissioni scientifiche che si occupano di sviluppo, ed è, siamo la stessa persona? Che domanda, dici, Lucangeli? Eh, ma Daniela Lucangeli è Daniela Lucangeli, non è un'altra persona, è identificata Daniela Lucangeli, ma dal primo ricordo della mia vita, a me questa mattina allo specchio, quello che è accaduto di mezzo è il mio sviluppo, il mio cambiamento, il mio processo di maturazione. Il mio, 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 significa che ha i miei capelli, ha il colore dei miei occhi, ha la mia mamma, ha il mio compito a scuola, ha i miei studenti, ha il mio lavoro, ha i miei amici, ha le mie paure, ha le mie debolezze, mio, proprio mio. Allora uno mi può domandare, c'è contraddizione tra tutti questi livelli? Da cosa dipende come sei tu oggi, Daniela Lucangeli? Dipende da quella che abbiamo definito livello biologico, neurobiologico, abbiamo parlato anche di materia oggi, che è una parola che ha un suo semante specifico, o dipende dalla mente, dall'anima, dalle persone che ha incontrato, da loro, e io mi domando, ma da quando è nata nel pensiero umano questa O, che ha dato tanto disturbo? Ma quando mai ci è venuto in mente di mettere una O in questa continuità, e in questa meraviglia di complessità che siamo noi? Ma io non potrei essere me, senza mia madre, senza i miei amici, senza i miei errori, senza le mie paure, non potrei esserlo, ma nemmeno senza la mia componente genetica di base ed epigenetica, d'incontro con l'ambiente, dove sta il principio di contraddizione? Non c'è, capite che non c'è, e che se noi continuiamo a guardare il mondo, il bambino che cresce, guidati da questo principio di contraddizione, siamo lontanissimi dall'avvicinarci alla verosimiglianza, neanche alla verità, e all'onestà con cui noi facciamo quello che possiamo fare per aiutare ciascun bambino ad avere il meglio di se stesso. Quindi io con questo tipo di onestà cerco di dirvi cosa studio io, che non è necessariamente giusto, ma è cosa sto cercando di fare per quello che sono io oggi, rispetto a tutti i bambini che incontro. E io ne incontro veramente tanti di bimbi, e vi do due note sulla mia vita, visto che devo entrare in sintonia, no? Hai sentito che ho ascoltato? Tutto mi sarei aspettato di fare nella mia vita, non quello che sto facendo, perché quando ero giovane e studiavo, io avrei voluto fare l'ingegnere di biologia molecolare, perché secondo me è andare a manipolare i meccanismi della materia, vero? Era miracoloso. Invece dopo mi sono ritrovata a 18 anni in una classe di alunni handicappati gravi e io non li avevo mai visti, non avevo mai visto un bambino con un handicap mentale. Ero molto giovane e non avevo capacità di controllo dei miei comportamenti, probabilmente avevo un disturbo non identificato. Quindi siccome il primo giorno di scuola mi hanno messo in questa classe, avevo quattro alunni handicappati gravi, di cui ricordo ancora i suoni, le voci, i dondolii e il loro sentirmi un estraneo in un contesto che era il loro mondo. Ecco, ero al piano terra di una scuola di campagna, fuori c'erano i grano turchi, c'era il sole, la finestra era aperta, quindi loro venivano verso di me e io indietreggiavo, loro venivano e io indietreggiavo, loro venivano, c'era la finestra, io sono scista dalla finestra, loro dietro di me, la bidella dietro di noi, primo giorno davanti al provveditore, io sono stata ammonita con una lettera e hanno chiamato mio padre per venirmi a prendere. Quindi lì che io in quel momento ero uno studente universitario di una materia che si chiama logica, sono stata per un anno dentro quest'aula cercando di vincere la fatica della mente di questi bimbi attraverso la logica e quindi mi sono accorta che non era la logica che mi aiutava ad aiutarli e ho cambiato strada proprio per cui ho incontrato loro, quindi io le traiettorie, le deiezioni delle traiettorie sono gli elementi a cui io sono più grata nella mia vita, quindi hanno determinato la mia maturazione e il mio sviluppo fino ad oggi, quindi incontrando loro, io prima mi sono lavorata in logica, poi in psicologia, poi ho fatto un dottorato in neuroscienze dello sviluppo alla comunità europea e lì ho lavorato per cinque anni in ospedali in cui non potevo bleffare perché se io sapevo aiutavo davvero i bambini che avevo davanti, se io bleffavo erano loro che perdevano la possibilità di farcela e quindi ho cercato di cambiare anche qui la traiettoria dello studio che io facevo, da studio per sapere a studio per essere e quindi da un valore che è conoscenza a un altro che è etica. Quindi quello che adesso cercherò di spiegarvi è che tra tutti questi elementi non c'è principio di contraddizione e che se voi siete operatori che lavorano con i bambini in tempi evolutivi avete delle potenzialità di intervenire in meccanismi in cui sono i primi ad averne vantaggio o i primi ad averne svantaggio e tutto dipende dalla vostra intesa di ciò che sta accadendo nella richiesta di bisogno che il bambino in quel momento ha qualunque sia la causa di questo bisogno organica, fisica, mentale, sociale e quant'altro. Detto questo che modelli adottiamo quando i bambini non ce la fanno e quando hanno una condizione che abbiamo definito di disturbo? Allora mi piace ricordarvi che l'Organizzazione Mondiale della Sanità spiega che quando la definizione è disturbo evolutivo non parla di una patologia o psicopatologia ma parla di una condizione in cui è il soggetto che è consapevole dell'essere disturbato da un suo limite. Guardate che dovete rovesciare l'ottica. Il disturbo indica che il soggetto è consapevole di essere disturbato da un suo limite di essere affaticato da un suo limite. Se non c'è questa condizione di consapevolezza l'etichetta non è disturbo ma è psicopatologia. Guardate che è una distinzione raffinata a livello scientifico. La psicopatologia implica che il soggetto ne ha parziale consapevolezza. Il disturbo il soggetto lo sa di fare fatica e ti chiede aiuto. È in uno stato di bisogno quindi quando noi parliamo di bambini che hanno un disturbo del neurosviluppo sappiamo che siamo di fronte a bambini che hanno un minimo livello di percezione della loro fatica e chiedono aiuto altrimenti dobbiamo essere anche lì delicati nell'utilizzo di etichette che hanno dei semanti complessi. Quindi che modello adoperiamo? Finora nelle ricerche e nelle pratiche cliniche se ne adoperano di due tipologie. entrambi hanno dei punti di forza ma anche dei punti di debolezza che vanno conosciuti. Il modello che abbiamo adoperato fino ad adesso per la maggiore è il modello di tipo dicotomico cioè c'è non c'è disturbo. Modello dicotomico è ad esempio faccio un esempio in positivo invece che in negativo sono o non sono incinta ci può essere soltanto sì o no non è che posso essere un pochettino incinta ci siamo? Fatto un sorriso? Eh è comprensibile ci siamo? Ecco il processo maturazionale invece il modello maturazionale che cosa indica? Se io ho un disturbo evolutivo che vuol dire quello evolutivo? Che è in età evolutiva o che è un disturbo che può evolvere? Punto di domanda e qui sta quello che vedo nei vostri occhi adesso si vede chiaro un disturbo evolutivo è un disturbo che può evolvere e può evolvere perché ci sono tantissime componenti ma spero che domani con la lezione del professor Burgio sull'epigenetica ve ne convincerete ancora meglio di quanto io riesca a darvi come evidenze ma perché può evolvere? Allora prima ho sentito citare Vigoschi questo grande padre che ad un certo punto delle scienze dell'educazione che ad un certo punto conia il principio di zona di sviluppo prossimale o prossimo Vigoschi cosa fa? Una sera legge Aristotele Aristotele nella metafisica spiega il passaggio dalla potenza all'atto del divenire delle cose seguitemi perché vi giuro che vi serve passaggio dalla potenza all'atto significa io sono potenzialmente anche le 2000 persone che ci sono in streaming serve faccio veloce passaggio dalla potenza all'atto significa che io sono potenzialmente in grado di agire qualche cosa dice Vigoschi solo se sono aiutato ad agirlo nel migliore dei modi possibile tanto che questa zona si può misurare e lui introduce il principio del quanto aiuto io ricevo per ottenere il meglio da me stesso facciamo un esempio concreto dice lui io sono in grado di imparare a leggere se tu mi insegni a leggere al meglio io sono in grado di imparare a parlare se tu mi insegni a parlare al meglio non posso ricostruire da solo tutto il percorso dei saperi della specie umana che come dire in questo momento io cosa sto cercando di fare a voi se io non ci riesco non vi resta che leggere le 8.746 pagine di inglese di letteratura scientifica per capire il potenziale di sviluppo io invece sto cercando di prestare a voi attraverso il mio aiuto ciò che ne ho capito io perché possa rendervi più facile la conquista che vi è necessaria quindi Vigoschi con questo sofisticato ragionamento cosa ci propone ci propone di capire il principio dell'aiuto e il principio del potenziale umano il potenziale umano matura solo se è aiutato ad ottenere il meglio da sé è vero diceva il collega prima i bambini crescono ugualmente certo che crescono ugualmente per fortuna crescono ugualmente nonostante noi anzi ci sono delle teorie che ci spiegano che siamo proprio gli ostacoli migliori perché loro diano il meglio di se stessi ma se noi riusciamo a ostacolarli meno peggio credo che siamo eticamente più evoluti come sistema sociale di aiuto giusto? quindi Vigoschi aveva intuito questo principio della zona di sviluppo prossimale cosa è successo da Vigoschi a oggi? Che le neuroscienze ci hanno mostrato the brain ci hanno mostrato che cos'è la nostra vita psichica e ci hanno mostrato che non c'è principio di contraddizione tra la mente e l'organo che la intesse allora se voi vedeste che cos'è un neurone quando gemma ramificazioni dendridiche connettendosi con tutti gli altri in una sinfonia di struttura psichica che in questo momento avviene nel vostro brain se voi lo vedeste capireste il miracolo in questo momento milioni di miliardi di sinapsi dentro di voi strutturano voi attraverso le vostre cellule non c'è nessuna contraddizione quindi in questo momento sta avvenendo esattamente ciò che noi siamo avviene che la vostra persona il vostro io cresce matura attraverso le vostre stesse funzioni quindi non c'è contraddizione nell'avere bisogno di un'aspirina quando sono raffreddato ma anche dall'avere bisogno dell'abbraccio di mia madre perché siccome sono raffreddato sono più vulnerabile e ho bisogno della sua carezza la sua carezza non è in contraddizione non sostituisce l'aspirina così come l'aspirina non sostituisce l'abbraccio l'abbraccio poi faccio anche un tentativo più evoluto visto che le relazioni precedenti me lo consentono per la profondità che hanno toccato studiavo l'altro giorno con delle persone veramente serie il meccanismo fondamentale della coscienza della coscienza intesa non come principio morale ma come principio vitale l'io e di fronte ad una discussione piuttosto complessa uno di questi miei colleghi che si occupa di fisica e di fisica della materia mi ha detto ma senti Daniela in un certo senso quello che viene fuori dalle ricerche sulla mente è che io in questo momento se anche fossi completamente nuda potrei riuscire a sentire di avere caldo e non freddo perché lavorando sui miei processi sensoriali potrei in un certo senso isolarmi dalla temperatura dice però se io mi metto un cappotto sto meglio giusto? e io le ho risposto hai ragione se io mi metto un cappotto sto meglio che contraddizione c'è? cosa voglio dirvi? nell'aiuto al bambino il fatto di servirmi delle strumentazioni semplici come può essere il potenziamento dell'apprendimento l'aiuto alla funzione il meccanismo di abilitazione di una competenza magari fa da cappotto ma per arrivare ad aiutare quel bambino lì io non trovo nessuna contraddizione nel mettergli il cappotto e nell'abbracciarlo tanto anzi imparo da come siamo organizzati perché come siamo organizzati è estremamente più intelligente di come noi capiamo noi quando ci abbracciamo per 30 secondi costringiamo l'amigdala a produrre i neurotrasmettitori dell'umore che ci fanno sentire meglio perché abbracciati ma se ad abbracciarci non è una persona che a noi cara bensì un estraneo a noi viene da dargli una pacca sulla pancia perché si allontani perché l'abbraccio implica una reazione biochimico molecolare energetica che riguarda l'io non riguarda soltanto il fatto che sensorialmente invade la mia parte di derma sono riuscita a spiegarvi è meraviglioso come si aiutano i bambini si aiutano con tutto i bambini come si aiuta lo sviluppo ogni elemento però va messo al suo posto perché se io metto il cappotto quando è agosto danneggio ma se io metto il vixinex negli occhi non curo il raffreddore quindi non posso fare confusione di cosa dare nelle diversità dei bisogni devo avere chiaro che ad ogni bisogno corrisponde un tipo di risposta più d'aiuto che un'altra alle emozioni attraverso le emozioni alla cognizione attraverso la cognizione ma non solo e ora vi mostrerò perché come state e quindi vorrei un sorriso saranno assolutamente grandi ma insomma perché io sono vulnerabile e ho consapevolezza di questo quindi Piaget le finestre evolutive dici ma la diagnosi quando la facciamo fare la diagnosi prima è corretto o sbagliato è etico e non etico e insomma capiamoci ci sono tempi evolutivi Piaget li chiamava stadi noi oggi le chiamiamo finestre evolutive che rispondono a processi maturazionali di tipo biologico neurobiologico facciamo un esempio se uno adesso a me insegna il russo io non lo imparerò mai bene tanto quanto lo avrei imparato in quella fase lì in cui la finestra evolutiva era organizzata per apprendere le lingue mi sto spiegando così come se volessi imparare a suonare il pianoforte ora non lo imparerei bene tanto quanto e così cioè è chiaro che ci sono delle finestre evolutive se a me adesso fate giocare con la Barbie io non provo la stessa gioia che provavo a 12 anni ci siamo così come se ad un bambino di 7 anni continuo a dare il biberon probabilmente non sono nella fase giusta dell'attaccamento in cui dovrei essere sto dicendo cose perché arrivino a significati velocemente cioè la finestra evolutiva come dicevamo prima quando vi ho chiesto la persona che sono oggi da cosa dipende da meccanismi universali di tipo biologico da meccanismi individuali della storia della mia vita e non è possibile spaccarli o o perché sono e e e sono contemporaneamente me così è in questo caso cioè nel meccanismo delle finestre evolutive noi dobbiamo conoscere esattamente i fattori di rischio che sono di ogni finestra perché se no non sappiamo intervenire nel tempo giusto noi dobbiamo sapere che i primi 18 mesi di vita sono dedicati dal sistema nervoso centrale per definire l'intelligenza senso-motoria perché vi faccio un esempio che faccio ai miei studenti e mi piace tantissimo da quando l'ho capito l'ho imparato e poi l'ho fatto intelligenza senso-motoria dice Piaget attraverso sensi e movimento il cervello costruisce tutto il vocabolario dei semanti su cui poi costruirà simboli ci mette 18 mesi e come fa? come fa? fa che se io tocco questo tavolo e mi concentro su ciò che mi viene come informazione sensoriale in questo momento io so solo che è duro e tiepido e un po' lisciastro ma se io muovo la mano ho anche tante altre sensazioni senso-cinetiche che arricchiscono l'informazione se io batto arricchiscono l'informazione se io guardo arricchiscono l'informazione tutte queste informazioni senso-motorie vanno per un meccanismo molto complesso che si chiama coerenza centrale la teoria della coerenza centrale vanno ad integrarsi in un semante che diventa tavolo questo semante entra nei miei sistemi cognitivi ed emotivi e diventa il tavolo di quel giorno che io ho parlato a quelle persone lì mentre altre 2000 mi stavano guardando di cose complessissime in 35 minuti e quindi si arricchisce di me della mia esperienza e di quello che è lì in più della semplice percezione sensomotoria sono riuscita a rendervi così al meccanismo miracoloso del nostro connettoma di come il nostro cervello diventi noi determinino mi sono spiegata male funzioni in maniera tale che noi siamo il meccanismo che ne viene in tanti e e e e e anche gli o sono e e poi cercherò di spiegarvelo ma devo andare più veloce perché questo è il punto a cui vi voglio portare più caro al mio essere qui oggi cioè quindi quando noi parliamo di disturbi del neurosviluppo possiamo ragionare ancora tagliando a pezzi le funzioni abbiamo capito di no quali funzioni non possiamo tagliare a pezzi né quelle biologiche né quelle psicologiche ma dentro ciascuno di questi elementi non possiamo tagliare a pezzi neanche gli stati mentali cognitivi verso emotivi verso affettivi perché non possiamo più tagliarli a pezzi perché dagli scienziati della porta a fianco cioè da quelli che si occupano di biologia molecolare da quelli che si occupano di fisica di fisica della materia vengono determinate evidenze che non possiamo più non conoscere e quali sono queste evidenze che noi come diciamo sistema nervoso centrale periferico siamo una centralina biochimica che produce energia andiamo in ospedale a facile elettro encefalo gramma funzioniamo ad hertz noi dormiamo a 3 hertz e mettendo 3 hertz siamo svegli a 9 hertz ma se mentre siamo svegli proviamo un momento di paura questi hertz salgono a 11 di angoscia a 15 di gioia a 17 mi sto spiegando cioè ad un certo punto le ricerche hanno mostrato che l'andamento umorale modifica processi complessissimi del meccanismo del sistema nervoso centrale periferico è meraviglioso allora questo che cosa significa che non si può più parlare di cognition rispetto a worm si deve parlare di worm cognition cioè nessun atto della vita psichica può distinguere questi due ambiti tutte le storie cervello sinistro cervello destro sono tutti modelli descrittivi ma che sono semplicemente come potremmo dire rappresentazioni di esperimenti che non possono fotografare il flusso vitale che avviene durante la funzione questo flusso vitale non è settoriale anche se poi dovrei dirvi che cosa implica il dominio specifico ma non vi tedio allora che cos'è la worm cognition e perché è importante che voi lo sappiate allora le emozioni sono stati mentali e fisiologici questo lo sappiamo sono associate a delle modificazioni naturale o apprese questo lo sappiamo come avvengono avvengono che in questo momento mentre voi mi state ascoltando c'è chi sta così c'è chi sta con le gambe incrociate c'è chi ha il viso teso c'è chi ha il viso sorridente c'è chi ha un atteggiamento aperto c'è chi ha un atteggiamento di rimugina come si dice cioè mentre il vostro sistema diciamo così di elaborazione della fase cognitiva è totalmente presente a controllare il flusso delle informazioni che da fuori entrano dentro e si adattano al vostro sistema le vostre emozioni nel periferico sono nel sistema diciamo subconsapevole non arriva completamente a coscienza ma quando io mi sono alzata per venire qui il battito cardiaco era molto più forte la mia temperatura è molto più alta il mio sistema di attivazione l'adrenalina in questo momento è molto più intenso perché si organizza per migliorare la mia risposta alla richiesta che devo eseguire quindi chiarirvi bene le cose cosa sto cercando di dirvi che non c'è nessun atto psichico che ne sia privo allora ogni bambino nel momento in cui ha un disturbo ha sia il sintomo che si manifesta nel comportamento pertinente all'organo di riferimento sia anche la vita psichica che l'accompagna faccio l'esempio così ci capiamo lo faccio sulle learning disability perché ho sentito parlare tanto di questo anche oggi quindi non entro nel merito ma questo esempio mi viene da farlo se io mentre apprendo faccio fatica perché quell'apprendimento è difficile esperimento un'emozione di paura tutte le volte che vado a rimettere in memoria quell'apprendimento io metto in memoria sia quella fatica sia quella emozione quindi io stabilizzo nel circuito di riorganizzazione che le neurofunzioni attivano sia l'apprendimento sia il mantenimento dell'emozione disfunzionale mi sto spiegando quindi io sì imparo l'impotenza cioè imparo che non sono capace di leggere bene perché l'emozione che accompagna la funzione è un'emozione che è antagonista al buon funzionamento scusate l'utilizzo dello stesso termine quindi quando io apprendo non mi devo preoccupare soltanto di come apprendo contenuto e forma della competenza o dell'abilità o della prestazione ma anche quali sono le emozioni cioè circuiti vitali che questo determinano perché se io non li tengo in considerazione scindo i meccanismi ed ecco che una difficoltà diventa condizione di disturbo un ritardo diventa condizione di disturbo un'anomalia della funzione diventa una condizione di disturbo cioè mette me in una condizione di fatica maggiore ha attivato un cortocircuito ve ne leggo alcuni quando che è difficile mi sudano le mani e mi si sconfusiona la mente vi è capitato mai che vi si sconfusionasse la mente allora siete sani vuol dire che la vostra amigdala ha comandato esattamente il meccanismo reattivo giusto scappare da quella fatica mi fa freddo fino alle dita delle mani e dei piedi e mi sento come il cimice che si gira per farsi credere morto questo meccanismo si chiama inibizione è fantasiosa ma è inibizione è il cimice che fa e inibisce tutto perché 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 la amigdala che non è mica qualcos'altro da noi così come gli occhi non sono mica qualcosa di diverso da ciò che io vedo sono interamente dentro ciò che io vedo così la amigdala che fa siccome sente che sono in pericolo scappa blocca tutte le funzioni io mi viene che mi viene così come mi viene e quando è sbagliato oramai se ne sono accorti sono intelligente ma fragile vi leggo questa mi ci vorrebbe un travaso dalla mente al cuore sentite che meraviglia mi batte forte il cuore che vuole uscire dalla testa perché a me i pensieri fanno ansia quando non li faccio uscire meraviglioso questo è un meccanismo che descrive il burnout cognitivo cioè il fatto che noi produciamo pensieri 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 e questa attivazione per forza ha una componente ansiogena perché è una iperstimolazione di funzioni in mancanza di equilibrio delle emozioni antagoniste positive pronto fate sto sorriso che vi aiuta e respirate perché anche l'ossigeno non l'hanno creato per niente è vero il mio ricordo più duro è quando mia madre si è messa a piangere fuori dalla clinica era un dislessico grave discalculico e disprassico con disturbi di comportamento ricordo che mi sarei dato fuoco lì piuttosto che tornare a scuola però non è tutto negativo perché c'è anche chi dice io quando faccio errori e sbaglio ho una maestra che sa come si fa questa è una cosa meravigliosa diciamo che una delle prime delle persone più importanti nella mia vita più significative della mia vita è un bambino di cui io non conosco il nome visitavo con l'amica Elisabetta Genovese in un ospedale di Treviso bimbi con disturbi misti di ogni ordine e grado avevamo un pezzo di ospedale cadente e ricordo sempre questo bimbo che aveva con sé otto adulti di cui l'insegnante di sostegno l'assistente polivalente la psicologa la logopedista la neuropsichia tutti quanti e l'infermiera gli deve aver detto che comandavo io io l'unica cosa che ho fatto in quel momento da lontano è stato sorridergli quindi questo bimbo da questo sorriso e poi voglio concludere con che cosa fa un sorriso alla fine è corso verso di me mi ha preso per il camice e mi ha detto aiutimi allora lì ha cambiato la mia traiettoria di studio perché ho pensato che se un bambino con otto adulti chiedeva aiuto ad un estraneo in un corridoio verde in un giorno in cui pioveva in un ospedale di Padova voleva dire che qualcosa in questo sistema di aiuto non stava aiutando bisogna capire come funzionano i sistemi di aiuto e cosa sono le emozioni antagoniste quindi per concludere che ho finito il tempo vero le due posso ancora prenderne qualche cosa le due emozioni che proprio sono fastidiose fastidiose anche se utili perché comunque nessuna emozione serve ad altro che ad attivarci al meglio poi il problema è come lo fa quanto lo fa quando lo fa come lo fa perché lo fa e quindi ce ne abbiamo tanti di problemi ma le due emozioni che in questo momento stiamo studiando sono il senso di colpa e la paura queste due emozioni sono quelle più potenti nella rete dei cortocircuiti ora se voi pensate il nostro sistema educativo il nostro sistema educativo è basato sul senso di colpa il nostro sistema educativo è basato sulla paura ora queste emozioni nascono positive perché il senso di colpa nasce per limitare l'ego e per determinare la responsabilità ma nasce così ma diventa esattamente il suo opposto e diventa per quello si chiama antagonista perché va a determinare la reazione che combatte invece che coadiuva e così la paura dovremmo parlare a lungo ma in questi giorni stiamo studiando un interessante confronto tra ciò che è dolore e ciò che è sofferenza il dolore che sia fisico che sia mentale che sia ha sempre una funzione che noi possiamo curare la sofferenza è una dimensione che va elaborata attenti che è una distinzione molto sofisticata nei meccanismi di aiuto il dolore si può curare ma la sofferenza va elaborata e quindi ha bisogno di aiuto allora i meccanismi nel processo sono proprio da identificare corretti quindi come facciamo ad aiutare dalla letteratura ce ne sono tante di indicazioni io qui ve ne vorrei dire almeno quante ve ne dico come si fa ad aiutare allora faccio il riassunto di come si fa ad aiutare il riassunto è questo lui si chiama Tom Scruggs è uno dei membri dell'accademia mondiale delle scienze per le learning disability e alcuni anni fa ci fa l'esempio della scala e ci dice immaginiamo il processo maturazionale come la situazione in cui un bambino si trova di fronte ad una scala su cui deve salire se noi andiamo a capire cosa fa questa scala dobbiamo accettare che la scala è un primo livello di aiuto che l'ambiente gli propone e si chiama esposizione dell'ambiente cioè quando l'ambiente ti dà tutti gli elementi perché tu possa salire e tu per fortuna e grazia di Dio sali da solo questo è un livello che è esposizione l'ottanta per cento dei bimbi per grazia dell'universo di Dio e di chi per loro sale abbiamo però una percentuale di bimbi che non ce la fa da solo a salire grazie allo stimolo esterno quindi dice Tom il primo livello più sofisticato di aiuto implica la facilitazione attenti alla parola facilitazione azione che rende facile allora chi è che rende facile io o il bambino io direbbe Vigoschi cioè chi aiuta il facilitatore chi fa da accompagnamento e come lo aiuto un bambino a salire per esempio abbasso i gradini metto il corrimano metto un antisdrucciolo cioè compio azioni di facilitazione del compito in questo modello rientrano tutte le pratiche riabilitative di potenziamento e di didattica che sono facilitatori cioè quando l'adulto per aiutare il bambino fa in modo che gli sia più facile il raggiungimento del risultato ma è aiuto? ancora no dice Tom perché anche in quel caso un gruppo di bambini saliranno ma qualcun altro non salirà e tu non sei in grado di capire perché non è salito a meno che non lo prendi e cerchi di capire se è perché ha paura ha bisogno di essere preso per mano se è perché non ha equilibrio ha bisogno di riabilitazione dell'equilibrio se è perché non ha forza motoria ha bisogno di abilitazione della forza motoria se è perché non ha stabilità psicofisica ha bisogno di esercizi sto spiegandomi cioè colui che aiuta deve saper fare l'analisi del bisogno o l'analisi dell'errore se non la sa fare non sa aiutare sta bleffando sta facendo a caso sta facendo ad occhio cioè salta completamente la dignità che ha il confronto con il bisogno reale e lo sa solo lui il bisogno reale mi guardate così ma è l'acqua calda è proprio l'acqua potabile che risolve la maggioranza delle malattie del mondo cioè dobbiamo scendere e capire a disposizione sua come possiamo aiutarlo e per questo è necessario un processo che si chiama intersoggettività e che adesso cerco di riassunto i disturbi del neurosviluppo modello dicotomico modello maturazionale modello maturazionale ci spiega che a seconda di come noi li aiutiamo possono modificare evolvere le condizioni questo mi porta a me personalmente Daniela Lucangeli a sperare che invece di una pandemia di malattie noi un giorno potremo avere una pandemia di guarigioni quindi vi spiego perché sono qui al di là del fatto che Federico Bianchi è venuto fino a Padova in un pomeriggio a 40 gradi per vedermi un quarto d'ora e convincermi a venire quindi al di là di questo c'è un'altra motivazione che si chiama il moltiplicatore il moltiplicatore è un'immagine che viene da un bambino Asperger che ha lavorato con me alcuni anni fa questo bambino di cui non dico il nome perché essendo così pubblico questo congresso non vorrei mai che lui domani mi telefonasse e mi dicesse che non mi aveva autorizzato a dire il suo nome personale questo bimbo l'ho incontrato quattro anni fa lui era un bimbo che parlava tre lingue aveva delle capacità di calcolo eccezionali e aveva capacità di riproduzione viso-spaziale del Duomo di Milano in nove minuti senza nessun particolare saltato quindi era un ragazzino straordinario i due genitori i due medici sono venuti da me dicendomi senti problemi di accompagnamento emotivo per lui sono veramente enormi problemi di autoregolazione cioè saper controllare le proprie emozioni per lui sono un problema se ci puoi aiutare ti siamo grati quindi ci abbiamo provato e siccome lui è riuscito ad aiutarci ad aiutarlo gli ho proposto di venire a parlare ad una sorta di situazione simile a questa che noi abbiamo al Nevegal dove insegniamo come fare potenziamento di funzioni ai operatori che se ne occupano lui è venuto e ha spiegato come lui ha imparato a controllare le proprie emozioni adoperando da strategie del tutto comportamentali fino al meccanismo di respiro alla mind nel fullness come si chiama non lo so adoperando un sistema integrato in cui si è autoaiutato mi guardate perché lui dopo un'ora di lezione ha avuto le reazioni tipiche di un ragazzino asperger cioè ha avuto un momento di panico un attacco di panico e scappato dietro la tenda io l'ho avvicinato sapendo come si avvicinava l'ho toccato con il mignolo cosa che lui accettava ho aspettato che il suo battito cardiaco il suo respiro si riorganizzassero siamo andati a prendere una cioccolata e mi ha detto Lucangeli hai visto il moltiplicatore dico no non l'ho visto cosa vuoi dire pensa Lucangeli avevamo cento maestre per 25 bambini per 25 anni di lavoro ancora in media con questa ora di aiuto siamo arrivati a 62.500 bambini e lì io ho capito che senso avesse tutta questa fatica che se voi oggi siete in 2000 ad ascoltarci allora io quella parte che avevo da compiere che sono venuta a compiere magari ho probabilità di compierla perché da soli e con visioni di reciproca intransigenza non si va da nessuna parte grazie 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 grazie